La macchina è ormai in moto, impossibile arrestarla tra ricorsi e inizio di campagna elettorale e si prevede una tornata senza esclusione di colpi. Se sul fronte delle regionali, pratica per nulla archiviata con il primo ricorso contro Musumeci che verrà dibattuto il 23 febbraio, la battaglia si gioca nei tribunali con i ricorsi degli ex onorevoli Picciolo e Germanà sul piano delle politiche e nella stanza dei bottoni che si gioca il futuro della città di Messina. E mentre scatta il toto da candidature in vista delle prossime politiche con Franco Antonio Genovese a fare l'ago della bilancia e molti big in pacchina ad attendere il momento dell'ingresso in campo è sul piano delle amministrative che si prevede una lotta senza esclusione di colpi, travolti vecchi e nuovi in attesa del pronunciamento delle coalizioni. C'è chi corre solo, Pippo Trischitta, Cateno De Luca ma anche Enrico Spicuzza e la new entry Daniele Zuccarello. Da ieri i suoi manifesti campeggiano in città, Zuccarello, forte dei suoi numerosi follower, correrà alla spoltrona di sindaco con il gruppo politico da lui creato, Missione Messina. Progetto in comune, lo slogan del consigliere è noto per le sue seguitissime battaglie mediatiche.